Luca lavora in un concessionario auto. Ma perché è così nervoso? Sta calcolando il prezzo di un'auto usata e ha poco tempo. La ricerca per Targa è utile, ma non basta a identificare tutte le informazioni. Vuole conoscere anche l'allestimento e gli accessori con cui l'auto è uscita dalla fabbrica ed è costretto a sudare sette camice. Non può commettere errori nel valutare il veicolo e nel pubblicare l'annuncio. Rischierebbe di compromettere l'affare. Ma Luca può stare tranquillo. Motornet ha appena introdotto una nuova funzionalità che gli cambierà la vita. La ricerca per VIN. Gli basterà inserire il numero di Targa o telaio nell'apposita barra di ricerca. Il software riconoscerà con estrema precisione l'allestimento e tutti gli optionals di prima immatricolazione. Così, in un solo colpo, risparmia un sacco di tempo, dà il prezzo giusto all'auto e pubblica correttamente l'annuncio. Vuoi fare come Luca? Clicca qui per saperne di più.